Un progetto che si chiama Un albero per la salute, qual è l'obiettivo, quali sono le finalità di questa piantumazione di oggi? Sì, oggi più che una piantumazione abbiamo messo a dimora una pianta di leccio, che è simbolo di rigogliosità, di forza, una pianta molto longeva, anche secolare, l'unica latifoglie sempre verde, per questo è stata scelta. Un albero per la salute è un progetto bellissimo, che fa parte di un progetto molto più ampio, che si chiama Un albero per il futuro, che i reparti carabinieri per la biodiversità svolgono ormai da tre anni in tutte le scuole. Lo scopo è quello di mettere a dimora tante piante per creare un bosco diffuso in Italia, georeferenziato, per cui si può vedere l'andamento e la crescita di questo bosco, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, perché un albero, oltre ad essere un meraviglioso laboratorio di biodiversità, è anche un serbatoio di carbonio, perché con la fotosintesi le piante accumulano anidride carbonica. Vi do qualche numero, si pensi che l'area boscata attualmente in Italia, che è pari a 9 milioni di ettari, può assorbire, quindi catturare 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno, e quindi questo dato serve per raggiungere l'obiettivo anche dell'agenda 2030, ossia la riduzione del 50% dell'anidride carbonica presente purtroppo oggi. Anche una dimostrazione è che la salute dell'ambiente e la salute dell'uomo sono due aspetti che sono legati, non si può fare a meno l'uno dell'altro. Esatto, la salute dell'uomo, così come la salute degli animali, delle piante, sono proprio indissolubilmente legate tra loro, perché ovviamente la salute dell'uomo dipende anche dalla salute dell'ambiente che ci circonda, quindi non dobbiamo mai perdere di vista questa cosa. E noi nelle scuole trattiamo l'educazione ambientale, che è proprio l'educazione alla sostenibilità dell'uso delle risorse naturali, che è la cosa più importante. E quindi noi cerchiamo ai bambini di insegnare questa cosa, perché saranno poi gli adulti di domani, e quindi sono loro a provvedere ad uno sviluppo sostenibile, a garantirlo. Un momento importante per riflettere su quello che è il benessere, un benessere dell'ambiente, un benessere della persona, anche significativo, che sia stato piantato qui, questo albero, proprio alle porte dell'ospedale di Urbino. Sì, è un progetto che nasce da una nuova visione del concetto di salute. Salute che è proprio definita come One Health, salute unica, che comprende il benessere sia dell'uomo, sia degli animali che dell'ambiente. È un'iniziativa che ha sposato la FADOI insieme all'Arma dei Carabinieri nel reparto Biodiversità. Ogni anno, per tre anni consecutivi, verranno piantati alberi in ospedali, uno per regione. Per il 2024 è stato scelto l'ospedale di Urbino. La medicina interna è la specialità della complessità e quindi ben si adatta a questa nuova visione dove la salute non è soltanto assenza di malattia, ma benessere dell'uomo nel suo contesto e nella salute degli animali e dell'ambiente. Un modo per riflettere sulla salute, non solo delle persone che sono strettamente legate con l'ambiente, con tutto ciò che circonda la vita quotidiana degli esseri umani. Sì, è un evento che è il secondo anno che si verifica, aderiamo come FADOI Marche. L'anno scorso è stato a Camerino, quest'anno 30 ospedali in contemporanea aderiscono a questa iniziativa che è molto importante perché poi è portata avanti dagli internisti che hanno un approccio globale alla salute del paziente, la salute della persona in particolare. La FADOI, che è una società scientifica di internisti, ha tra gli altri obiettivi quello di portare avanti idee sulla prevenzione e sulla medicina proattiva e quindi questo evento rientra sempre in questo ambito. È stato piantato oggi un leccio molto longevo, molto duraturo nel tempo, una sorta di segnale, di messaggio che facciamo dire dalle sue parole e quello che può essere il vostro messaggio appunto lanciato oggi. Sì, il messaggio sicuramente è quello di continuare a portare avanti queste idee che sono appunto fondamentali sulla prevenzione, anche se non è così facile cercare di quanto più avere una popolazione sana per prevenire le patologie e non per curarle. Quindi la frase abbastanza famosa di dare vita agli anni e non di dare anni alla vita che è quello che sta avvenendo nelle nostre corsie, credo sia fondamentale e che parta anche proprio dalla prevenzione, quindi dall'attenzione all'ambiente. Questo è un esempio, sicuramente un piccolo sassolino in un mare, ma noi vogliamo lanciare questo messaggio.